Benvenuti, grazie, a nome anche di Rai4 e degli altri ospiti. Vi presento subito Maurizio Embriale, responsabile di Rai4, che farà una breve introduzione e vi darà qualche diritta. Grazie a tutti. 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 un autore arrivato da pochissimo nel mondo di Doctor Who e vi dico soltanto due degli episodi che ha scritto, che ne ha scritti tre, uno anche di questa stagione, quello con Mason Williamson tra parentesi. Autore di Flatline e di Mami on Direct Express, quindi lui è l'autore di Mami. Ma ora ecco invece lo showrunner, colui che abbiamo aspettato per tanto tempo, colui che ci dà grattacapi, bibbole bubole temporali come diciamo noi, e qui che l'elenco dei suoi episodi sono bellissimi ma non ve li sto a dire tutti, soltanto basta un nome, Stephen Moffat. Grazie. Un'altra domanda che ho collezionato da tutto il fandom in Italia, una delle prime è quando, in Italia's storia, se sei che sei in Italia, would you like the Doctor to visitare? Oltretutto, Barron, Pompei, Venice, San Marino, Vinci, che ho già andato, dove? Oltretutto? Oltretutto, oh, non nebro. Il futuro definitivamente, vorrei vedere come funziona. Ehm... I've just been drinking a lot of the coffee here and... I can make the room still! I'm so clenched! I want to see what happens in the future to your coffee You must all be living much faster than we are What other great bits of Italian history are there? The Medici's There's loads of stuff Jamie, have you any idea? When in Robulus and Remus Yeah? Go all the way back He helped with the creation of Rome I mean, that would be fun, wouldn't it? He created Rome Yeah, that would be cool Allora, Steve Bernardo, si sente? Ha detto, dove andrei? Andrei nel futuro, probabilmente Ci sono troppe opzioni, troppe possibilità Andrei nel futuro e vedere il futuro dell'Italia e degli italiani Poi ha fatto una parentesi dicendo Comunque ho appena bevuto uno dei vostri caffè E sono assolutamente iperattivo È un po' troppo intenso per me Quindi vorrei vedere cosa fate Voi che bevete questi caffè Vivete sicuramente a una velocità maggiore della mia Probabilmente questa ha un'influenza sul vostro futuro E poi ho detto, forse ai Medici, in effetti La storia dei Medici dell'antica Toscana Se dovessi tornare indietro E Jamie intervenuto aggiungendo Romolo e Remo Vorrei tornare indietro e vedere l'origine di Roma Adesso dovremmo avere delle domande Ci sono delle domande? Avete bisogno del microfono? Vabbè, allora intanto ne faccio una veloce Mentre hai recuperato un microfono Jamie Dove hai preso l'ispirazione per scrivere la mummia? Gli ho chiesto dove hai preso l'ispirazione per scrivere la mummia Well, the title Mummy on the Orient Express Was given to me by my good friend Steven Moffat For which I think we should all be very grateful And that was kind of it He said, it's Mummy on the Orient Express And it's a train in space And that was all I was given And then the problem I was faced with was How do you hide a monster on a train? And how do you just stop it becoming A group of people screaming as they run from one end of the train To the other away from the monster? So I was just thinking Is it invisible? Does it fade in and out of invisibility? And one idea I had was that The bandages would be like snakes That would slide under a door And then fall into the mummy And they were okay ideas And then I thought What if only the victim could see the mummy? And then I thought No, Doctor Who must have done that It's one of those ideas Where you think surely somewhere in the history of Doctor Who They've done that And they hadn't So I had it And the rest is history Well Well, the title L'ha suggerito il mio buon amico Steven L'ho fatta Ed è un bandage Perché è un titolo di cui ero affascinato da sempre Per cui ne ho approfittato tantissimo Dopodichè mi sono posto la domanda Ma come funziona? Cosa faccio? Come faccio a nascondere un mio mostro su un treno? Come faccio a impieghiere che la gente scampi non appena lo veda? Cosa fanno? Por uno avanti e indietro per i vagoni? A quel punto ho cominciato a buttare la idea Del tipo Forse le vende potrebbero essere la realtà dei serpenti Potrebbe essere qualcosa di quel genere Finchè non mi sono Non mi è venuta un'idea E se solo le vittime riuscissero a vedere il mostro? E mi sono domandato Beh, non è possibile che in tanti anni Dottor Uno abbia mai fatta una cosa del genere E un'idea che sembra così brillante E per fortuna non l'avevano mai fatta E quindi l'ho fatta mia Hello Faccio la domanda in italiano o in inglese? Italiano? Come preferisci Tanto se la fai in inglese la traduciamo in italiano Mi sono sempre domandata Com'è che gli autori di Dottor Who uscissero fuori con le idee vere e proprie Immaginandomi due scatole Una con cose fighe E un'altra con posti fighi Tipo Mumie, Oriente Espress, Venezia, Vampiri, Robo, Sherwood Oppure se semplicemente lasciate che il Dottore affronti i mostri di cui avevate paura quando voi eravate piccolini Grazie 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 Do you know my point in case I started with the books of the movies? Or is it from the books of the movies? I think for me mostly I'm looking for things that scare me. And I'm a very timid and easily scared man. So I can make something frightening out of more or less anything. Statues, children, walls, apples, anything. I think one of the ways in which Doctor Who works is it doesn't always take you to an extraordinary place. It makes the ordinary world around you seem as threatening as it does to me, a very frightened Scot. So he's taking the ordinary and bringing space and time and horror to that, I think. Per me, la question è che sono una persona che si spaventa molto facilmente. Sono sempre stato molto pauroso. E l'ordinario, il quotidiano mi terrorizza. Le cose più banali per me possono essere spaventose. Come i bambini, le mura, le pareti, le mele. Sono cose che mi spaventa la morte. Quindi il dottor Who ha questa grande ricchezza. Può prendere l'ordinario e rendere lo straordinario. Può riempirlo, disinviaggere lo spazio nel tempo. Può riempirlo di orrore. E può spaventare qualcuno come me, che sono uno scozzese timido e terrorizzato molto facilmente. Io sono un grande nerd e ho già stato un po' di... ...mi persone. Ho chiesto voi qui oggi. Io sono un grande nerd e ho già stato un po' di quando. E anche se non avevano questo lavoro, io spenderei la mia vita pensando sui alieni, roboti e ghiosti. E quindi è molto bello che io abbia un lavoro dove posso essere pagato per fare questo. Ma ecco di Stephen's idea di essere timido, io credo che alcuni scrittori hanno un tipo di cervello dove stai sempre processando una storia in ogni modo. Quindi, per esempio, se ho dovuto incontrare qualcuno e sono tardi, io pensi automaticamente che sono morti. E poi pensi, ah, sono stati morti. E la polizia dovrà venire a me e mi raccontare, e io non ho avuto un alibi. E io sarò un sospetto. E poi andrò in giro. E come poterò in giro in giro? E io sono subito capire come poterò in giro in giro. E mio amico è 10 minuti tardi. Quindi, questo è il tipo di cervello che ho. Quindi, sto sempre pensando di idee, e ci sono sempre nuove cose strutture. e ci vediamo. Grazie. 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 e questa persona è in ritardo di 5 minuti, io comincio a pensare che sia morto e se è morto comincio a pensare che la sua polizia verrà a dirmi che è morto e mi chiederanno se ho un alibi, io l'alibi non ce l'ho, finirò sospettato, probabilmente mi indagheranno, finirò in galera, ma come posso sopravvivere in galera? E a quel punto io sono già in prigione che temo dalla mia sopravvivenza e lui è in ritardo di 10 minuti. Buonasera, senta, l'episodio dell'undicesimo dottore ambientato in Venezia non è stato fatto veramente a Venezia, io vorrei sapere perché e se in un prossimo futuro ci saranno qualche riprese effettuate veramente in Italia? I can't now remember why we shot Venice in Croatia, I think it was because it was combined with shooting Vincent and the Doctor and we needed a place that could stand in for France and for Venice and that turns out to be Croatia. Who knew? So for that reason, are there any plans to shoot Italy? Well, my goodness, it's a beautiful place. it would be fantastic to come here and shoot. It depends whether we have a story that we need to shoot here. That's really boringly what it comes down to. Also, any advantageous terms that Italy can offer us will certainly be taken under consideration. That's not a request for a bribe, by the way. I'll take bribes. I'll take a look at this episode of Venice in Croatia because it was the period in cui we were recording in contemporary the episode of Vincent van Gogh and we needed a location that could combine two necessities, represent Venice and Paris. and it went out to Croatia and then the house worked so much. I would like to film the Doctor Who in your country because it's a splendid place. It depends on the history. If we had a story that requires us to be filmed in Italy, we would certainly agree with it. And in any case, even the benefits of tax agreements could be received in a positive way, but this is not a request, it would certainly be fine. Anyway, Jamie has added that I am available here. Hi, I'm Bella and I read that you were doing a new series spin-off called CLASS and I was wondering if you do online auditions for any part. If you do what, I'm sorry? Auditions. 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 Lascia come traduco in italiano velocissimo. Ha chiesto, ha detto, so che state facendo uno spin-off per Toru, una nuova serie che si chiamerà CLASS e mi stavo domandando se fate delle audizioni per il casting. We're nowhere near casting yet. Nice try. And when that happens it will be down to Andy Prior to get out there and find who's out there. so unfortunately you're sucking up to the wrong guy. It's Andy you've got to get on the right side of it. I don't know how we're going to handle the casting for that because you know we've got, I think, one and a half scripts now. So we're really early in the process. It's going to be an amazing show, but it's a long way off casting. Obviously we're going to phone you immediately. so if you walk out the 쪽. and we'll do the casting Dipper. If you're looking into a casting staff that only has to do in the casting, but we're still looking into the casting, so we're still taking a casting. And I'm not particularly近 in casting, I don't care when the casting will be. It's time to take care of me. And I'm not the right person to ask you, but we will be willing to ask you, but that's really worth it to the casting. We'll do the casting. It will be another casting. che ci ho aggiunto, però è una cosa fatta molto bene. Sì, salve, la mia domanda è per entrambi. È stato annunciato, spero di non fare spoiler, che sarebbe che tornerà un personaggio nello speciale di Natale e nell'episodio di Jamie tornerà un altro personaggio, scusate, tornerà un altro personaggio scritto nell'episodio di Jamie. Non voglio fare spoiler, quindi non dico i nomi. Mi chiedevo, dato che esistono vari, diciamo, plot points, diciamo, trame in sospeso riguardo a, soprattutto, uno dei due personaggi, i nomi sulla culla oppure il legame mentale, eccetera, mi chiedevo se questi plot points, queste trame in sospeso venissero lasciate in maniera deliberata per poter poi far tornare i personaggi oppure se sono, diciamo, incidenti felici e P-Exilence, cioè se il desiderio di far tornare un personaggio a posteriori che fa collegare a questi plot points. Per chi è questa? Per entrambi. Per entrambi. Per entrambi. Per entrambi. Quagia. 500 400 500 500 500 Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Yeah. We number it. He doesn't number himself. It was very funny. Yeah. Jamie ha fatto i complimenti per il costume e Stephen ha aggiunto comunque il dottore lo numeriamo noi che lo guardiamo. Ma tra lui non c'è 11, 12 o 13 futuro. Insomma, i numeri li diamo noi. C'è solo un dottore ed è lui. No. 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 Io volevo chiedere una cosa sul personaggio del dottore in generale, perché c'è una puntata con il dodicesimo, il complesso del Dio, in cui Amy chiede al dottore cos'è ciò in cui lui crede, perché deve esserci qualcosa in cui lui crede, e il dottore non risponde. E io mi chiedo, lui crede nel bene, nel fare sempre meglio, e anche quando perde qualcuno, quando dovrà perdere Clara, nessuno si aspetta che rimarrà solo, tutti sanno che prima o poi troverà sempre il modo di andare avanti. E quindi qual è la fede? Cioè da cos'è che trae fede in maniera primaria? Perché io so che lui è un pezzo della mia fede, perché io trago energia dal mondo immaginario tantissimo, e lui qual è ciò da cui trae energia più di tutto il resto? Sì, tutto è tutto. E poi E poi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il dottore crede in un'idea e non ideale. E questo ideale si chiama il dottore. Crede di poter fare di più, di fare del proprio meglio. Non crede in se stesso, crede nella persona che può essere, nella persona che può aspirare a essere. Anche se, lo sappiamo, noi lo sappiamo, non è un supereroe, non è invincibile, non ha superpoteri. A volte sbaglia, a volte è debole, a volte è vanitoso, a volte è imperfetto. Però lui ci prova, si mette in gioco e cerca di aiutare chi è debole e chi è in difficoltà. Mai codardo e codere, no? E questa è la sua fede ed è la base su cui fonda tutto il resto. There's no way I can do a better answer than that. Anche se non è una risposta migliore di quella che stiva. Ciao. Innanzitutto grazie per essere qui. È bellissimo vedervi dal vivo, non solo su YouTube. E la mia domanda riguarda River Song. Io adoro il suo personaggio, lo amo assolutamente. E quindi la mia domanda è come è nato il personaggio di River Song? Da dove hai preso le idee? Lei è sempre stata la moglie dell'attore? La donna che avrebbe ucciso il dottore? Oppure sono cose che sono semplicemente venute fuori dopo? Grazie. River Song came about sort of by accident, really. Because I had a scene when the doctor and Donna were in a library and some archeologists came through the door and they would have to get past the bit where they explain who they are and take over the team very, very quickly. So I thought the psychic paper won't really cover it. So I thought, what if one of the archeologists knows the doctor? And I thought, well, that's lame. That's such an obvious coincidence. And then I thought I can disguise the coincidence by making it a friend he hasn't met yet. At which point, River sort of took over the story. I suppose also a few years before I'd read The Time Traveller's Wife and that had stayed with me a bit. So I quite liked having the Doctor Who version of that which is, you know, the woman who knows him better than he knows himself because she knows him from the future. She's back at Christmas. Mr. and Mrs. Who are back in action on Christmas Day. And she's back at Christmas Day. And she's back at Christmas Day. And she's back at Christmas Day. The Time Traveller's Wife is the only way to sing that song for Chester. Don't go there. The Time Traveller's Wife the Time Traveller's Wife The Time Traveller's Wife Not yet. The Time Traveller's Wife I don't know how it says the book. The Time Traveller's Wife It's The Book. Let's do everything. Oh, if you have it also. Ok. Sorry, scusate. Ok, scusatemi questo River Song, è nata per caso, quasi in maniera accidentale, nel senso che c'erano episodi della biblioteca, avevo bisogno di giustificare il fatto che il team di archeologi e scienziati che arrivava alla biblioteca potesse incontrare il dottore e in maniera molto rapida riuscire a entrare in affinità con lui, superare l'ostacolo del dottore, non venire bloccati da un secolo infatti perché siete qui eccetera eccetera, ma mettersi al lavoro. Allora ho cominciato a pensare, e se uno di questi archeologi lo conoscesse già, fosse suo amico? E però mi sono detto, un po' banale come coincidenza, come scusa, a quel punto ho cominciato a riluginare, mi sono detto, se fosse un amico che non l'ha ancora conosciuto, un amico che il dottore non ha ancora conosciuto. E poco tempo prima avevo letto, in italiano è un amore all'improvviso forse il titolo, in inglese è The Time Traveler's Wife, ed è una delle storie che è stata molto utile per sviluppare poi il personaggio, perché a quel punto Rivera è preso controllo della storia ed è diventata la donna che conosce il dottore meglio di quanto lui conosca se stesso. E tra parentesi, come avrete capito, alla fine è aggiunto, il signore, la signora Hu, torna in nazione natale, perché lei tornerà. Buongiorno, grazie per essere qui, la mia domanda è per tutti e due, con quale personaggio avete avuto più difficoltà a salutare per sempre e vaga a uccidere? Perkins, in Bambi on the Orient Express, Frank Skinner, che ha giocato Perkins, è un grande Doctor Who fan e quando è offerto la possibilità di restare con il Doctor, ha detto, posso fare una versione di questo quando mi dice sì? Sì, e credo che molte persone piace Perkins e vorrebbero sapere lui tornare. In scrittura, era bene, era facile, era facile da rinforzare, perché ovviamente l'episodio ha spiegato l'idea che Clara potrebbe non essere tornata con il Doctor, quindi mi sentiva come, wow, Perkins potrebbe essere il nuovo compagnolo, quindi deve essere così, ma è bello che molte persone hanno spiegato, sì, vogliamo tornare Perkins. Allora, una risposta di Jamie è, beh, il personaggio di Perkins, Perkins è nell'Oriente Express, perché anche l'attore che lo interpretava è un grandissimo fan di Doctor Who e quando c'è la scena in cui lui riceve l'offerta di continuare a viaggiare con il dottore, mi ha detto, non è che posso filmare una versione dove dico sì? Quindi, per me, per ricordi sono nato. È un personaggio che è stato molto amato, per cui un sacco gente ha chiesto, anche perché all'epoca di questa storia c'era la possibilità, sembrava, nella storia, che Clara potesse non fermarsi, e quindi tanti hanno detto, beh, Perkins potrebbe essere il prossimo compagno. Per me, per me, per cui scrivere Matt Smith è molto difficile, un mio amico è davvero buono, abbiamo diventato molto buoni e abbiamo fatto un nostro canale con un Doctor Who insieme, e quindi ho quasi matato uno dei miei amici, giocato il mio figlio di gioia di gioia di gioia di gioia e poi ho cambiato con un altro di miei amici quindi non è una cosa che è importante a fare a gioia di gioia E' stato difficile scrivere la fine di Max Benz, perché è un carissimo amico, perché abbiamo iniziato l'avventura del dottor U insieme e perché abbiamo iniziato questo viaggio insieme a un certo punto ho dovuto scrivere la fine. E quindi quello che è successo è che ho scritto la fine di un mio carissimo amico che interpretava uno degli eroi della mia infanzia, il giorno di Natale, che non è proprio una cosa sana da fare per festeggiare il Natale, per un'altra parte. Grazie a tutti, salve, mi presento, io sono il dottore e i miei due cuori stanno battendo all'impazzata perché è un onore e vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio per avermi fatto piangere, per aver distrutto i miei sentimenti e per aver aspettato i miei cuori. Well, there never can be a ginger doctor perché Peter Capaldi is going to play the part forever. No, perché mi ritorno e sarò il dottore per sempre. Is that a promise? Eternal life is in my power. Continuando, it's in Peter. And so he's continuing on a contractual basis for all eternity. E una carta contractuale per il resto dell'eternità, non ti preoccupare. I said that in a church. It's getting to me. And they're both kind of paradoxic. The first is that in one of the latest episodes there is the doctor who basically tells himself in a ghost-like way the order of the people that died to motivate him because Clara was the next. Ok, and at the beginning of that episode he explains the paradox through the example of Beethoven. Is that the same paradox that is used when Eleventh is in the box to destroy himself but then Clara is in the box and Amy is in the box and she goes back to herself, etc, etc. That's the first question. The second question is... You know what, I think in fairness to the translator here we'll just do that one. I think the thing about the bootstrap paradox, which is an event that doesn't begin anywhere, is this not actually a paradox at all. When I read, because I have read a bit about this thing, is that there is no necessity for an event to have a beginning. It can be a circle. An inevitable consequence, if time travel were possible, is that events would not have proper beginnings and ends. Because something that happens now could start in the future. That would be inevitable. It's not a paradox, it's a result of time travel. The bootstrap paradox would happen. It just would. If you had a TARDIS there would be no way of avoiding it. Circular, circular logic. But it's not actually a paradox, it's just a truth. I, in realta, ho letto del bootstrap paradox, mi sono informato, sono andato un po' a guardare, il problema dei paradossi temporali è che non è un problema, nel senso che se il viaggio nel tempo fosse una realtà, gli eventi circolari, la circolarità, la ricorsività degli eventi, quindi senza un inizio e senza una fine specifica, non solo sarebbero una conseguenza, ma sarebbero proprio una caratteristica dell'esistenza all'interno del viaggio nel tempo. Quindi sarebbero inevitabili. Non ci si potrebbe fare, non si potrebbe fare nulla. Per cui questa sarebbe una delle realtà, se avessi o in TARDIS, quella sarebbe la realtà. Sorry, just to add to that, two short stories you should all read, which are required reading for time travel fans, both by Robert Heinlein, by his bootstraps, and all you zombies. Just if you like paradoxes and having your head mashed, they are the place to go. Ok, ok. Mentre voi scrivere tutti in inglese, io vi traduzco in italiano che ha consegnato, se siete fan del viaggio nel tempo, se vi affascina il concetto, non mancate di venzio e di cercare due racconti brevi di Robert Heinlein, che è un meraviglioso autore, aggiungo io, che sono Quindi, buy these bootstraps in inglese, and all you zombie, all you zombies. Second question is... Well, the first one's got a reading list attached. I don't want to know it, because you will never, ever, ever tell us, but do you know the doctor's name? Do you know it? I've asked him, and he never tells me. It's Rumpelstiltsky. I think the real answer is the doctor's name is the doctor. That's very important to him, that name, because that's what he wants to be. So it's not just the name he's given at birth, which is probably a perfectly ordinary name. It's the symbol, the thing that he tries to be. That's his name, that's the name of the doctor. La risposta buffa è che gli ha chiesto qual è il nome del dottore, il dottore, il dottore non glielo dice. E Jamie ha aggiunto, beh, Rumpelstiltsky, questa però, scusate, sbagliata io. E la risposta seria è che il nome del dottore è il dottore. Il dottore si chiama così perché è ciò che vuole essere, ciò che aspira essere. Quindi l'importante non è il nome che ti danno alla nascita, ma è quello che tu scegli all'interno della tua azione. Prima che facciate le domande, ci sono le ultime due, perché abbiamo cominciato a esaurire il tempo, quindi ultime due domande. Mi spiace per tutti gli altri, ma purtroppo il tempo tiranno. Allora, innanzitutto vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto e per aver creato appunto l'universo, cioè non averlo creato per l'universo. In modo eccellente. Devo chiedere, come è nato il personaggio di Clara e del concetto, la ragazza che ha salvato il dottore, la ragazza... No, ovviamente la dottore. Comunque, come è nato questo concetto... Ragazza è impossibile. Come è nata appunto questa idea di... Come è il personaggio? Helva comprobamente... Revo chiedere, come è nato APOSBUONOuri. La idea di... Come è nato con la firma impossibile... Come questo nome non appunto a lui proprio. Il Imperatore ins Alexandro non gli dona è ovviamente ma innone attività. E' da Verona appunto questa idea, liberale, che rende un personaggio perfetto perfetto... ...retto una persona perfetto pure ordine. Come sempre, la sua disposizione è di trattare le persone come puzzle, di essere decostruzati. E quello che ha aprenduto in dealing con Clara è che era di una reale humana, e se si avessero avuto questo prima, sarebbero più amici. Quindi, questo è quello che non esiste. È solo Clara Oswald. Allora, l'idea della ragazza impossibile in realtà è un'idea che quasi non esiste, nel senso che il personaggio di Clara è un personaggio umano molto più complesso di quanto il dottore all'inizio non riesca a capire. Lui un po' la decostruisce, in qualche modo la vide come un personaggio che ha una funzione interdattata. ... in the writers room. How do you build up such a complex character? How do you develop your story and her personality? Thank you. Grazie. Il traducere italiano praticamente ha chiesto come in breve, come nella stanza degli scrittori, viene costruito un personaggio complesso come quella di Clara, o Todd o di Musco. Si lascia di sviluppare in una forma, hai un'idea, e normalmente le caratteristiche starte con un'idea. Mi avevo l'idea che lei fosse la persona che potrebbe cercare di mantenere l'arm's length, perché lei, in una forma vague, vuole essere in charge, o almeno non avere qualcuno di essere in charge. Now the whole thing, about the doctor calling her a control freak, a control freak is what a control freak calls a control freak. I don't call control freaks control freaks, I call them sir or ma, if I don't mind. So it's just from that, but she complicates as she goes along. and you get to a place where you just know that voice and how she's going to behave at a sort of instinctive level and I think that transfers to the other writers because we've seen her on screen and what is on screen is always filtered through that wonderful performance from Jenna is much more complicated than I can set out in a few words you know as a matter of instinct, like muscle memory what that person would think and feel and react I am now incapable of writing a paragraph about her because you can't sum up people, real people or real characters in one simple paragraph I don't know have you an idea e lascia che si sluppi, lascia che questa cresca non parti da un punto di partenza, nel caso di Clara il fatto che lei voglia un pochino essere non dico in controllo del dottore ma perlomeno in controllo della situazione non ama il fatto che altri abbiano un potere su di lei, un controllo su di lei è uno dei motivi per cui il dottore la chiama control freak e poi va detto che solo un maniaco del controllo riconosce un altro maniaco del controllo e chiama un altro maniaco del controllo perché altrimenti non lo chiamerebbe maniaco del controllo per cui si conoscono e si sono trovati tra di loro è anche vero che il personaggio lascia che si sviluppi è troppo complicato e complesso da descrivere in quattro parole quello che ti posso dire è che credo filtre anche agli altri autori nella stanza degli scrittori è che a un certo punto tra la scrittura del personaggio e il vederlo sullo schermo interpretato magistralmente da Jen tu sai come quel personaggio si comporterà è quasi memoria muscolare, sai cosa farà ed è più ricco di quanto io lo posso riassumere in questi cinque minuti grazie a tutti che è stato scoperto di Steven perché ha avuto un miglior avviso di la serie e dove vuole le caratteristiche ma c'era una cosa che è stata un'ottima cosa che è stata che ha avuto la capacità di Clara in Flatline dove si era ovviamente il doctor, si era ovviamente il sonico si era ovviamente il motivo di storia e questo è stato davvero venuto da pure chance, dove mi sono detto che devi prendere il Doctore in una locazione per il tutto l'episodio per cui possiamo freare la scelta, che è dove l'idea di un'idea di TARDIS e il Doctore trappato e l'idea è venuto da l'idea e poi ho pensato, ok, Clara è in un'altra parte, qual'è il gioco? Il gioco è che è il Dr. Clara e lei prendendo la mici out of the Doctore e poi tutti si chiedono, bravo, abbiamo un Doctore femminile, questo è quello che abbiamo aspettato ma mi piace il fatto che, quasi per accidente, siamo arrivati con Clara in un'idea di più capabile in questo episodio che è agente della storia, la sua trasformazione è nata quasi per caso, soprattutto per esigenze narrative perché io avevo avuto l'indicazione di dover chiudere il Dottore nella stessa location per tutto l'episodio lui non poteva muoversi, quindi a quel punto se lui è bloccato qualcun altro, Clara, deve avere la possibilità di muoversi e quindi da questa idea di partenza, da questa necessità, lei poi ha potuto svilupparsi in un certo modo Ottimissima domanda Tante grazie di essere qui e volevo chiedermi, c'è qualche punto in particolare per cui avete, in base al quale avete voluto sviluppare la storia, tra la relazione tra il Dottore e Clara in questa serie perché nella precedente sappiamo che con la presenza di Danny Pink siete stati un po' costretti a tenerle da parte e se in questa serie invece ci sarà un diverso sviluppo rispetto al passato Intendi la serie l'ottava, la nona? Sì, sì, la stagione Cioè, tu sei Non a stagione, mentre nell'ottava c'è Danny Pink Se si sviluppa di più nella serie Cioè, se c'è un diverso sviluppo, se c'è un punto che sta adorando Cioè, grazie, la giornata Cioè, grazie a tutti Cioè, grazie a tutti Sì, ho capito bene, scusami, perché non è... È un problema di audio, Diego. Se c'è qualcosa di specifico che loro hanno in mente, che lui ha in mente per Clara nella nonna stagione, grazie. E se hai qualcosa di specifico in mente in termini di sviluppazioni per Clara in 9th season o qualcosa? Beh, è tutto scoperto, è tutto fatto e si è lasciato, quindi, letteralmente, non ho nulla in mente per Clara. She's vanished from the fictional universe forever. But I think what she's going to do by the end of the series will shock, horrify and surprise you in roughly that order. La nonna l'abbiamo già girata tutta, quindi, purtroppo, non ho proprio nulla in mente per Clara a questo punto, perché abbiamo girato, abbiamo filmato e l'attrice sarà andata a fare altro. Quello che posso dire è che, tempo della fine della stagione, ciò che abbiamo in programma per Clara mi scioccherà, riempirà d'orrore e mi sorprenderà di quest'ordine. Diciamo che questa è una bella anticipazione, insomma, per quello che succederà dal 3 gennaio e poi sui quattro. Io ringrazio sicuramente i nostri due splendidi ospiti. Avete qualcos'altro da dire all'audience italiana? Un saluto particolare, un'idea, da lanciarci, uno spoiler? No, 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 no. I'm telling you nothing. But what I would like is because this is literally the only time Peter Capaldi gets his name pronounced correctly. Everyone, everyone in the UK pronounces it Capaldi. Well, everyone in England anyway, we in Scotland agree with the Italians, the pronunciation is Capaldi and long A's are for losers. So for Peter's sake, because he's never heard anybody say his name correctly, I'm going to get you to do it, yeah? Ok, wait, ha detto visto che in Italia finalmente qua può essere pronunciato bene il nome di Peter Capaldi, e non Capoldi come lo dicono il resto, non gli scozzesi ma il resto dell'Inghilterra, vuole registrare gli italiani che pronunciano bene il nome di Peter e glielo farà l'ore. Solo Capaldi. Solo Capaldi. So I'm going to do 3, 2, 1, yeah? Everyone get 3, 2, 1. Ok. Oh no, I've got this wrong. I'm going to say that he's brilliant. Ok. 3, 2, 1. Capaldi. I'll send that to him. And we're also going to do a selfie. State dove siete e vengono a farsi loro una foto con tutti voi. State tranquilli. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.